Cristina produce gli abiti e questi soldi vi aiuteranno a ripartire e a produrre perché lei vi spiega adesso che cosa fa e che cosa aiuteranno. Io ricordo che il settore della moda è il secondo settore italiano, 700.000 persone che lavorano solo qui, 500.000. Cristina è tra questi. Che cosa significa produrre questo abito e se questi primi 10 milioni vi aiuteranno per portare avanti il sogno iniziato tanti anni fa? 22 anni fa per esattere. Allora, intanto questi soldi ci serviranno per comprare i materiali che a noi servono per produrre la giacca, il capo finito. Noi cominciamo proprio come vedete qua, un pezzo di stoffa, lo si stende, lo si taglia e su misura vengono tagliati perfino a volte anche a mano e dopo c'è la catena della Cornagliani e iniziamo ad andare avanti, ci sono i vari reparti. Quanto ci vuole? Le maniche, i davanti, le schiene, i fianchi. Per produrre solo un abito quanto tempo ci vuole? Dipende da, allora, normale 2-3 settimane, sino se uno è su misura e hanno anche abbastanza fretta anche 2 settimane si fa. E quanti abiti vengono prodotti? Cioè, in media? Quanti ne sfornati? L'abito viene finito comunque, passa dallo stiro e tutto, 3 settimane o un mese. In media più o meno quanti abiti riuscite a produrre? Adesso produciamo sui 360 abiti al giorno, quando eravamo dentro. Monti, senatore... Ora siamo fermi da 4 settimane e adesso riprenderete. solo di rientrare. Senatore Monti, questo appunto è un caso forse diverso...